eeeh ma è lasciato il tuo ferro e non può arrivare tutti vedo tutti i suoni tutti i suoni tutti i suoni c'è fuori ma c'è scritto fuori il VIP il VIP lei ha detto che fai bene giochiamo di qua ok ti capi ma che casino che fai eeeh E io fai, guarda! E lui!